La chiesa di Bonassola non mi vedrà più, sono una collaboratrice, ho sempre dato una mano, l'ho sempre fatto col cuore, da parte mia è finita qui. Non ci stanno i fedeli del Borgo Ligure di Bonassola e manifestano la loro solidarietà a Don Giulio Mignani, parroco sospeso a Divinis, ovvero dalla possibilità di celebrare messa, amministrare i sacramenti e predicare per via delle sue posizioni giudicate non conformi al Magistero della Chiesa. Lui ha all'alzato solo un dito e il risultato è quello e dobbiamo pallare tutto lì e qua è una grande, grande mancanza se lui va via, proprio chi verrà, chi verrà in un paese di 200 anime in inverno. Questa è la chiesa di Bonassola, provincia di La Spezia, due passi dal mare, la parrocchia Santa Caterina d'Alessandria e ai fedeli che nei giorni scorsi sono entrati in chiesa è comparso davanti agli occhi questo cartello, che spiega che il parroco è stato sospeso per aver rilasciato esternazioni pubbliche nelle quali ha sostenuto posizioni non conformi all'insegnamento della chiesa. Don Mignani lo scorso anno aveva deciso di non benedire Palme e Ramoscelli d'Olivo per protesta. Nella sua omelia, durante la messa della Domenica delle Palme, spiegò di essere contro il documento della congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Don Giulio ha partecipato appunto alla nostra matrimonio e è stata una grande emozione perché comunque era la prima volta fondamentalmente che un parroco si presentava e dava vicinanza fondamentalmente a una coppia gay. I fedeli però non ci stanno e sono dalla parte di Don Giulio. È partita la mobilitazione dei parrocchiani ed è nato il comitato Io sto con Don Giulio con lo scopo di mostrare solidarietà, vicinanza, affetto e riconoscenza nei confronti del loro amato parroco. Le persone anziane penso che avranno tanto sconforto nel sapere che appunto non ci sarà più Don Giulio qui a Bonasola. Una signora che ha la ragazza con un handicap e che quindi non si può muovere in carrozzina che è arrivata piangendo disperata perché la sua bambina, la sua ragazza e la sua mamma non vedranno più Don Giulio. Allora... Hai pensato quando è arrivata la sospensione? Qual è stato di primo acchito l'emozione? Beh, delle lacrime mi sono scese, devo essere sincero. Credo come possa avvenire anche in un rapporto di una coppia, nel senso uno ha investito la sua vita, no? Su una determinata cosa. C'è chi ha detto io senza Don Giulio in chiesa non ci vengo più. Comprendo anche queste persone perché se anche io fossi al loro posto mi avrebbero a dire, siccome queste persone potrebbero giustamente dire, siccome noi condividiamo il pensiero di Don Giulio e il desiderio di cambiamento nella chiesa, se però la chiesa mi dice che Don Giulio così non può essere, beh, allora non c'è posto nemmeno per me nella chiesa. Che effetto fa vedere una parrocchiana che si commuove, che arriva alle lacrime, persone che fanno capannelli, manifestazioni per te? Qualcosa che fa emozionare anche a me, vedere che comunque un aspetto del mio ministero ha fatto sì che persone possano averne tratto di un beneficio. Il bene che ho visto essere stato poi prodotto nelle persone mi fa dire, beh, come dire, è stato, come dire, io ho detto anche al vescovo, se un albero non si vede dai frutti io vedo che ci sono dei frutti positivi, allora dico, boh, ma vale la pena tagliare questo albero? I tuoi genitori appoggiano perché, insomma, sono una parte importante della tua vita? Poi mi ha sempre insegnato, adesso è una persona libera, una persona che ragiona sulle cose e quindi vedere che sono mantenuto così, no? Anche, anche, ripeto, credo che sia qualcosa che lo renda orgoglioso. Rifaresti tutto quello che hai fatto? Certamente sì.